Bomba ecologica sul Saline, di ieri mattina la notizia del sequestro da parte della Guardia Costiera nell'impianto di Villa Carmine. Il provvedimento, firmato dal GIP del Tribunale di Pescara, è stato necessario a causa del grave degrado causato all'ambiente. Si parla di percolato che sfociava direttamente sul fiume. È una discarica che già nel momento in cui venne individuata presentava delle criticità perché era proprio a ridosso dell'alveo del fiume e quindi con delle problematiche già noti al suo tempo, tant'è che anche per questa ragione il Saline è diventato prima sito di interesse nazionale e poi sito di interesse regionale per quanto riguarda l'inquinamento. Ieri è intervenuto questo sequestro ad opera della Capitaneria di Porto, ma rientra nella più ampia attività che è stata svolta dalle forze di polizia sul territorio anche su richiesta di questa amministrazione perché l'obiettivo è quello di cercare di portare il risanamento nel fiume di Saline e fare sì che il Saline da problema possa diventare una risorsa. Si è parlato di responsabilità del commissario ad acta. Il commissario ad acta ha ricevuto un avviso di garanzia, credo che fosse un atto dovuto. Adesso nel merito della questione io non voglio entrare perché comunque c'è un'attività di indagine in corso. Ciò che mi preme è la salvaguardia dell'interesse e della tutela della salute dei miei concittadini e dei turisti che verranno qui a Montesilvano. Quindi dobbiamo procedere in tempi rapidissimi a cercare di intervenire e risolvere il problema.